Sono andati? Sì, sono andati. Siamo salve. Eh, manco malva? Sì, ma Fernanda, anche tu con questa idea di far giocare i bambini al film La Ricerca di Nemo, guarda proprio. Sì, ma l'era glaciale era peggio, toccava sbrogliare il frigo. Sì, ma occorreva anche impinire la vasca da bagno d'acqua e buttarsi dentro. Beh, le robe quando vanno fatte vanno fatte bene, se no si fa di manco di farle. Sì, sì. Allora, visto che bisogna farle bene, mettiamo un po' a posto qua e dividiamo, perché qua c'è un po' di tutto. Dividiamo. Allora, Fernanda, ti chiedo, gli avanci della torta dove vanno? L'umido. L'umido, brava. I popicorni dove vanno? L'umido anche quei. L'umido, brava. Le salviette sporche dove vanno? L'umido anche quei l'umido. Ecco qua. La confezione della torta dove va? Se è pulita, se è nenta nella carta. Se è pulita, e allora la carta la mettiamo qua. Piatti e bicchieri di plastica. Secco, non riciclabile. No, no, sbagliato. Come sbagliato? Adesso piatti e bicchieri di plastica hanno trovato il modo di riciclarli. Lo dico sempre buttare nel secco non riciclabile. Eh, lo so. Questa è una bella notizia. È una bella novità. Solo che bisogna presentarli bene, pulirli, perché bisogna renderli presentabili a quei che riciclano. Saria da lecarli. Oh, sì. La torta era buonissima. prima di buttarli nel... Basta, aranciata, non ne posso più. No, no, guarda che nei nostri che ho messo prosecco. Viva! Riciclare fa la differenza.